Musica 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 Oh Mamma mia oh franchi oh oh franchi eh ma che vuoi non vuoi che sto a giocare sono impegnato manda la presa qua a play cosa ricordate che chi se fa i cazzi sua che fa cent'anni eh vabbè senti c'ho un dubbio una depressità guarda sto perso di fango mi stacchiamperà si risponde me chi la stoffame tragico ma con chi parli ma ma come parli io come parlo io come parlo ma pensa a te è tutto un cessato perplessità ma dai ma lasciate perdere ma che vuoi ma soprattutto ma ma che vuoi vabbè franchi una domanda sai quando cerchi una risposta se no non riesci più a fa niente durante tutto il giorno già presente eh sì e magari non ci dormi stanotte eh eh vabbè dai dimmi ma sbrigate che c'è un conto in sospeso con sto tipo dai che vuoi vabbè sai i gravmachi i che dai i gravmachi quelli che si inventano sistemi per sopravvivere in città e pretendono di insegnarli ma non sanno manco coniugare i verbi dai quelli che circuiscono ragazzi ragazze casaling e gente di ogni tipo che gli stillano la paura di un'eventuale aggressione e gli offrono la possibilità di cavarsela senza allenamento senza toti specifiche ma con le mosse segrete o i calcetti sulle palle dai che poi gli offrono ste lezioni se li portano dentro e cantine dentro i parchi i gravmachi vabbè sì ho capito beh vabbè quindi lo fanno per spillare soldi alla gente beh sì che poi voglio dire ste cose manco funzionano quindi si inventano cose inutili per poi farsi dare del denaro diciamo sono eticamente deplorevoli gente discutibile beh sì grazie ti giuro stavo impazzendo cercando di capire che poi parliamoci chiaro se dovesse succedere una situazione limite anche a uno di noi sempre meglio essere allenati anche solo per percorrere per scappare e quindi correre è meglio essere allenati certo quindi franchi mi confermi che se sei un bustone che ha la panza o sei una casalinga che non ha mai fatto sport in vita sua non c'è mossa segreta che tenga o calcetto nelle palle efficace no 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 non c'è calcette nelle palle che funzioni grazie bene guarda grazie se no non ci dormivo stanotte ma scusa ma allora perché la gente continua a farsi pia per culo oh perché il mondo è pieno di gente che si deve svegliare dai su ma lasciate perdere fammi giocare da stonfane dai 10 10 calcetta